Ciao amici di UniRomaTV, tutti quanti vi starete ponendo un quesito fondamentale. E' meglio lo stracchino o la robbiola? E soprattutto, qual è la differenza tra questi due favolosi formaggi? Andiamo a chiederlo agli studenti della Sapienza. Io preferisco la robbiola. La robbiola, non sa dubbio. Stracchino. Maggio più stracchino. Lo stracchino. Bella Gianluca. Grande, mitico. Hola Gianluca Miserendino. Ciao Gianluca Miserendino. Ciao Gianluca Miserendino. Ciao Gianluca Miserendino.